Sì, anche quest'anno veniamo a presentare il calendario storico, ormai è arrivato alla novantesima edizione, ci accompagna ogni anno a fine anno e quest'anno abbiamo voluto affiancare alla modernità un po' di salvaguardia dell'ambiente, quindi quest'anno il nostro calendario è stato dedicato al pianeta, alla salvaguardia dell'ambiente, ricordando quello che è stata anche la modifica della nostra carta costituzionale, dove per la prima volta sentiamo parlare di sostenibilità e riprendendo alcuni racconti dello studioso Mario Tozzi ci siamo affidati ad una grandissima agenzia pubblicitaria che ha voluto interpretare in chiave più moderna i racconti di Tozzi cercando di valorizzare quella che è la responsabilità di ogni singolo cittadino nei confronti del pianeta terra e dell'ambiente. Noi quest'anno, come tutti gli anni, come anche ha voluto precisare il nostro comandante generale nel corso della presentazione di questa mattina a Roma, il nostro calendario è un calendario che si autofinanzia, abbiamo mantenuto un costo ormai bassissimo da decenni, costa solo 2,50 euro, lo distribuiamo in oltre 1.200.000 copie, quindi un calendario che è presente in tutta la nazione, il calendario lo possiamo trovare nei bar, nei ristoranti, negli uffici pubblici come negli uffici privati. Questa dimostrazione della sempre maggior vicinanza dell'arma dei carabinieri alla popolazione ed è proprio per questo segnale che diamo ogni anno con il nostro calendario abbiamo voluto utilizzare questo strumento per sensibilizzare sempre di più la popolazione e il cittadino alla salvaguardia dell'ambiente.